Allora Bruno, tu già hai fatto la corsa singola Bruno, sono due le corse, una singola, vedete, c'è gente che corre nel percorso, c'è una nella corsa singola e poi dopo una cronacoppi, io sto a coppie costanetti che è già a corso, com'è allora? Eh, bello, c'è il rettilineo d'arrivo che è controvento, mentre dall'altra parte si vola, si vola, 54 punti, si fanno 53, 54 punti, perché c'è un punto dove il vento è a favore, il rettilineo quello lungo, i furri si fanno benissimo, guarda Bruno, mi prendi un attimo che faccio quando vede pure come sono pronto, eh? Questo è il body della squadra, questo è il casco della squadra, io corro con questa bici, però con la ruota dietro piena, con la ruota venticolare dietro, dopo verrà fatto il cambio, va bene ragazzi, sono in stand, vedete, che organizzazione, quanta gente, 90 partenti? Con la singola, è più le coppie? Cioè la singola 90 partenti, più le coppie, quindi ragazzi dai, siamo pronti, votate il video che tra poco vedremo la gara, Morelli e Sanetti insieme, ho licenso sempre L'uomo la batte, eccolo Forse è vero, magari Il campione italiano, il campione italiano Ho già cambiato il body però per non farmi riconoscere, è un incognito, sempre un incognito dopo Guarda, guarda quanta gente c'è, guarda, guarda Guarda, la gente sopra Autotromo di Maggione, eh ragazzi Pollice in su, sempre Grazie Grazie